Buonasera, buonasera da Onda TG in primo piano, la fase 2 del Green Pass tra proteste e contraddizioni, la storia di un anziano dimenticato a 85 anni, intanto l'Abruzzo per il momento resta lontano dal rischio di una zona gialla, facciamo il punto nel nostro servizio. Però siamo molto lontani da quelle percentuali rispettivamente del 10 e del 15% che bisogna toccare entrambe contemporaneamente per andare in zona gialla, quindi da questo punto di vista io credo che ancora per un po' di tempo, questo rischio concreto, l'Abruzzo non dovrebbe correrlo e anzi con un pizzico di ottimismo, sempre però con sano realismo, dico che sono qualche settimana che anche il numero complessivo di nuovi positivi è abbastanza stabile, quindi non conosciamo, non stiamo conoscendo in questi giorni alcuna particolare accelerazione del contagio. A dichiararlo a margine della presentazione della candidatura di Vittorio Masci in città, il presidente della regione Abruzzo Marco Marsiglio, che lancia un appello all'indecisi del vaccino per aderire alla campagna in atto in concomitanza con la fase 2 del Green Pass che scatta proprio oggi, primo settembre, il lunedì dell'anno. In Abruzzo sono sette le persone ricoverate in terapia intensiva, tutte non vaccinate. Tra i ricoverati non in area critica ci sono anche vaccinati che, secondo gli addetti lavori, senza il vaccino sarebbero finiti in rianimazione. Per tornare a stimolare i cittadini, magari rientrati dalle vacanze, ad andare nei nostri centri vaccinali, che in questo momento sono aperti senza bisogno di prenotazione, quindi in qualunque momento, anche adesso, chi si rivolge a un centro aperto, dopo pochi minuti può aver fatto il vaccino e mettere in sicurezza se stesso e la propria comunità. Da oggi intanto l'utilizzo obbligatorio del Green Pass riguarderà i settori dell'istruzione e dei trasporti, ambiti particolarmente attenzionati a pochi giorni di ritorno in classe, anche se su fronte dei trasporti la certificazione verde non sarà necessaria per quelli regionali e locali. Green Pass obbligatorio quindi nelle scuole per il personale scolastico, ma non per gli alunni. Mentre si attendono delle direttive più specifiche, arrivano le prime reazioni tra i dirigenti scolastici, demandati al controllo del certificato verde. Questa incertezza, dopo due anni di criticità e brutte figure, è ancora imbarazzante per chi crede nei valori costituzionali e ha un alto senso di cittadinanza attiva, afferma il preside del Polo Fermi, Massimo Di Paolo, secondo il quale gli studenti che hanno una responsabilità diretta nella diffusione del virus non possono entrare in un ambiente dove i lavoratori sono obbligati al vaccino e l'utenza no. È una contraddizione di termini di tipo giuridico, di tipo valoriale. Questo lascia l'amaro in bocca. La scuola ha bisogno di coraggio di una direttiva più certa. Ma il problema non riguarda solo le scuole. A dare voce ai dimenticati del Green Pass e il Tribunale per i diritti del malato, con la coordinatrice Katia Puglielli, che denuncia il caso di un 85enne, tra i primi a completare il ciclo vaccinale, ancora sprovvisto del certificato verde. È andato a farsi aiutare in farmacia, andaro da proprio medico di base, ha fatto scrivere una mail per il recupero del codice. Agli occhi dello Stato sembra un fantasma. Sbotta la Puglielli chiedendo alle istituzioni di aprire un canale a sostegno della popolazione. Messi a referto e ritardo altri due positivi non vaccinati. Si amplia il focolaio nell'albergo di Opi con 13 contagi accertati, però tutti in isolamento. Intanto il centro Abruzzo respira. Sentiamo tutto nel nostro servizio. Settembre è tempo di migrare, lontano dal Covid. Il primo bollettino del mese sembra andare su questa direzione. Sono solo due i casi di Covid-19 messi in referto dalla ASL. Si tratta di una 23enne e un 54enne, entrambi domiciliati, nella struttura alberghiera di Opi, dove nelle scorse settimane si è acceso un focolaio che ha coinvolto i dipendenti dell'albergo. Il quadro epidemiologico risulta da tempo stabilizzato, anche se alla mappa dei contagi si aggiungono le due positività accertate nei giorni scorsi, ma comunicate in ritardo alla ASL. I due positivi non risultano vaccinati e sono stati isolati assieme ai loro colleghi. Si tratta quindi di vecchi casi messi a referto. Sono 20 dipendenti che stanno affrontando la quarantena nell'albergo, di cui 13 positivi. Di questi solo uno ha completato il ciclo vaccinale, un altro ha ricevuto una sola inoculazione. Sono tutti asintomatici o con sintomi lievi. Per scongiurare un'incubazione più lunga del virus, se bisognerà attendere i tamponi di verifica che saranno svolti a giorni. Sono attualmente 156 le persone positive sul territorio, di cui 49 residenti a Sulmona, a fronte di due guarigioni registrate nelle ultime ore, mentre in sorveglianza si trovano 230 pazienti domiciliati sull'area Peligno-Sangrina. Se il virus ha allentato o meno la morsa sul territorio, si vedrà nelle prossime ore quando saranno elaborati i dati riferiti ai referti dello scorso lunedì. Per il momento è passato l'incubo del mercoledì nero, che la scorsa settimana fece registrare 29 casi e quella prima ancora 22. Prevenzione e vaccinazione restano le due armi da sfoderare nella quotidianità, soprattutto nei mesi di settembre, dove tutto riparte e ricomincia. E veniamo alla questione Snam, che finisce con le diffide questa volta sul tavolo delle procure, pensate di Sulmona e di Roma, con il doppio esposto presentato dagli ambientalisti. Sentiamo tutto nel nostro servizio. La magistratura indaghi sulla questione Snam e quanto chiedono gli ambientalisti con un esposto che è stato presentato presso le procure della Repubblica di Sulmona e Roma, un doppio binario di intagine che si apre. Troppe le cose che non quadrano nella lunga e controversa vicenda della centrale e del metanodotto che la Snam insiste nel voler costruire a Sulmona, lungo la dorsale appenninica, tuonano i comitati che nelle prossime ore illustreranno il contenuto dell'esposto, spiegheranno per quali ragioni si è giunti a interessare la magistratura affinché indaghi sui tanti aspetti non chiari della vicenda ed accerti pure eventuali responsabilità in merito. Per la prima volta quindi gli ambientalisti presentano un esposto alla magistratura dopo le diverse diffide, chiedendo che sia fatta luce sull'iter autorizzativo che muove fondamentalmente da un vizio d'origine, ovvero quello secondo il quale l'opera di pubblica utilità e strategica, come è stata definita dall'alto, si basi su dati di fabbisogno del tutto errati, anche alla luce del recente rapporto pubblicato sulle energie fossili. 17 milioni per le scuole, per le strade Peligni, il consigliere provinciale Andrea Ramunno si congeda, tira le somme degli interventi eseguiti, ma del Denino Morandi tanto rammarico, soprattutto nessuna certezza. Facciamo il punto nel nostro servizio. Più di 15 milioni di euro per la viabilità, oltre 2 milioni per le scuole, attirare le somme sugli interventi svolti dalla provincia sul territorio e il consigliere provinciale Andrea Ramunno, che chiude la sua esperienza dopo la celebrazione dell'ultima assise. Un lungo elenco di interventi e finanziamenti, con il rammarico del Denino Morandi, che si avvia a spegnere la sua settima candelina dalla chiusura, senza via di uscita, almeno non, in tempi brevi. Ho il rammarico di non veder partire i lavori dell'Istituto Denino Morandi, dopo che in questi due anni ho seguito settimana dopo settimana i lavori del progettista e del proveritorato delle opere pubbliche. E' stato convocato il Comitato Tecnico Amministrativo, si andrà a gara breve, spiega Ramunno. I tempi continuano ad essere incerti per la popolazione scolastica, che riprenderà l'anno scolastico per il settimo anno di fila a Pratola. Sull'edilizia scolastica, tra adeguamenti anti-covid e anti-ingendio, oltre all'afficentamento energetico dei due istituti sul Monesi, Vico e Mazzara, sono stati erogati circa 2 milioni di euro per le scuole peligne. 10 milioni di euro sono stati invece stanziati per il rifacimento dell'asfalto sulla strada frentana, la Morronese nei tratti di Badia e Fonte d'Amore e le strade provinciali dintro d'acqua, Cavate, Torrone, Valle Corvo, Bugniara, Passo San Leonardo, Scanno e Cocullo. Altri 5 milioni sono stati programmati per il prossimo anno. E con la prima parte di Onda di G, come di consueto, ci dobbiamo fermare, ma torniamo tra poco con le nostre notizie. Grazie a tutti. Lavorare con passione è questo il nostro segreto LPG Legno dal 1997 realizza tetti, tettoie, gazebo, casette e garage in legno di alta qualità pali a recinzioni in pino impregnato e castagno case residenziali antisismiche dall'ideazione alla pose in opera alla LPG Legno le tecniche più all'avanguardia e le lavorazioni artigianali ci aiutano a raggiungere l'eccellenza contattaci per costruzioni civili e industriali per le pubbliche amministrazioni siamo sul MEPA LPG è centro lavorazione legno autorizzato progettazione e stabilimento Arraiano zona industriale 347-588-7107 LPG Legno la tradizione artigiana incontra l'innovazione quotidiana Salve, sono Marissa Presutti la titolare della CUPOS Service vi ricordo che ci occupiamo dell'assistenza domiciliare diurna e notturna anche in ambito ospedaliero con personale qualificato la CUPOS Service da quest'anno oltre a manersi degli operatori sanitari avrà dentro al suo staff una figura professionale la dottoressa Runa Musti Salve, sono la dottoressa Runa Musti mi occupo di psicologia clinica consulenze tecniche di parte e ipnosi una tecnica di rilassamento profondo che permette alle persone di guardarsi dentro e di avere delle risposte che spesso coscientemente non hanno voglio concludere citando una frase a me molto cara chi non pensa non si risolve mai vi aspettiamo nei nostri nuovi studi in via papà Giovanni XXIII numero 10 a Sulmona siamo qui a poggervi le nostre mani e a un bimbi il nostro ascolto scuola popolare di musica di Sulmona da 40 anni comunichiamo con il linguaggio universale della musica e da allora non abbiamo mai smesso di farlo abbiamo fatto risuonare strumenti ed emozioni siamo qui con le radici nella tradizione e la cultura dell'innovazione per vibrare insieme e accompagnare adulti e bambini nel fantastico mondo dei suoni il nostro hashtag è hashtag musica la nostra parola chiave è identità musicale we stay on air sul Mona in via le mazzini 51 telefono 0864 53 978 ai supermercati tigre di raiano e pratola uva vittoria a 1 euro e 89 al chilo salsicce di suino produzione propria e macinato di bovino 5 euro e 99 al chilo mortadella carne italiana sciccosa 89 centesimi acqua sant'anna naturale un litro e mezzo 25 centesimi pasta di semola garofalo 500 grammi 75 centesimi biscotti balocco 350 grammi 69 centesimi punto vendita di raiano orario continuato e domenica aperto ore 9 13 supermercati tigre raiano strada statale 5 e prato la peligna via valle madonna 51 l'aias sezione di sulmona odv è un'organizzazione di volontariato per assistenza alla disabilità rivolto ad adulti e bambini da anni siamo vicini alle famiglie di persone diversamente abili promuovendo il loro benessere psicofisico l'autonomia e l'inclusione sociale con il nostro personale specializzato organizziamo corsi di formazione per adulti dopo la scuola pubblica attività ludico ricreative per i più piccoli e laboratori di artigianato artistico per stimolare le risorse personali inoltre da settembre partiamo anche con il dopo scuola inclusivo aperto a tutti venite a trovarci siamo a sulmona in via torrone 44 c continuate a sostenerci donando il vostro 5 per mille il cibo non è solo nutrimento ma anche i denti di tradizione territorio valori a te cari che danno più gusto alla tua giornata e che trovi nei prodotti terra antica latte alta qualità olio formaggi freschi e stagionati tutti ingredienti semplici e genuini provenienti dalle terre abruzzesi la cooperativa terra antica tutela i sapori autentici della tradizione perché tu possa portarli a tavola e condividerli con i tuoi cari latte olio formaggi freschi e stagionati delle terre d'abruzzo metti in tavola solo ciò di cui ti fidi terra antica alta qualità a chilometro zero si sono sempre presi cura di te ma arriva un giorno in cui i ruoli si scambiano e sei tu a doverti prendere cura di loro e la miglior scelta che tu possa fare per il benessere dei tuoi genitori anziani è la residenza anziani le sorgenti a popoli all'interno di un ex hotel a quattro stelle un team di professionisti si prenderà cura dei tuoi familiari con attività che hanno l'obiettivo di migliorare la loro vita e accompagnarli verso un percorso di rinascita residenza anziani le sorgenti a popoli invia galileo galilei 34 telefona lo 085 41 68 038 e fissa un appuntamento le sorgenti la rinascita della terza età seconda parte seconda parte di onda di giri partiamo dalla cronaca la resistenza il tentativo di fuga andato male chiesto il rito abbreviato per il rapper evaso nelle scorse settimane dall'ospedale sentiamo nel nostro servizio rito abbreviato condizionato alla perizia psichiatrica e quanto chiederà l'avvocato alberto paolini per il suo assistito 22enne di cremona e meale iniziali resosi protagonista lo scorso 22 agosto dell'evasione dal pronto soccorso di sulmona dove era stato portato per un malore in stato di arresto il giovane doveva essere tradotto ieri dal carcere di lanciano al palazzo di giustizia per il rito direttissimo il periodo di isolamento fiduciario di 14 giorni che ogni detenuto deve osservare dopo un nuovo ingresso in carcere ha fatto slittare l'udienza al prossimo 21 settembre quando l'avvocato le 22enne chiederà il processo con il rito abbreviato condizionato come detto a una perizia psichiatrica per attestare se quella maledetta domenica il giovane era o meno capace di intendere di volere il giovane era stato fermato la notte tra il 21 e il 22 agosto nell'area della villa comunale trovato in possesso di 40 grammi di hashish ha opposto resistenza agli agenti operanti ed è stato tratto in arresto la domenica in preda a un malore forse per una crisi di astinenza ha ottenuto ricorso alle cure mediche dell'ospedale dove vaso intorno alle 11 dileguandosi per una finestra rubando una bici fino a raggiungere le campagne di pettorano dove è stato recuperato dalla polizia nel pomeriggio dopo ore di ricerche con 10 pattuglie e due elicotteri la storia non è delle migliori il 22enne è stato allontanato dalla famiglia raggiunto negli ultimi tempi anche da trattamenti sanitari obbligatori recentemente iniziato il difficile percorso di ritorno sulla buona strada e un rapper su youtube si fa chiamare il giovane nobile almeno fino al prossimo 21 settembre per la resistenza pubblico ufficiale per l'evasione resterà dietro le sbarre parametri non conformi scanno chiude due fontane pubbliche con apposita ordinanza firmata da sindaco giovanni mastro giovanni sentiamo che cosa è successo nel nostro servizio parametri non conformi alla normativa vigente nell'acqua di scanno e così il primo cittadino giovanni mastro giovanni con apposita ordinanza chiude due fontane pubbliche in paese la comunicazione della aslo 1 avezzano su monal aquila è arrivata nel pomeriggio di ieri e il sindaco ha così ordinato il divieto di utilizzo dell'acqua destinata al consumo umano proveniente dal pubblico acquedotto il provvedimento si è reso necessario in quanto le analisi eseguiti dall'agenzia regionale per la tutela dell'ambiente l'arta hanno rilevato parametri non conformi alla normativa nei punti di prelievo presso le fontane pubbliche di largo che è freddo bergia e via domenico di rienzo il sindaco ha quindi intimato alla sacca l'ente gestore dell'acquedotto comunale di adottare tutti i provvedimenti necessari tesi a garantire in tempi rapidi la piena potabilità dell'acqua stessa al fine di limitare al massimo i disagi per la popolazione interessata blindata e verso l'unesco appacentro è tutto pronto per la corsa della ripartenza la plurisecolare corsa degli zingari sentiamo allora tutto nel nostro servizio circa 20 partecipanti pacentrani e non tutti muniti di green passo tampone negativo animeranno l'edizione 2021 della corsa degli zingari appacentro nel borgo peligno fervoni preparativi per la plurisecolare tradizione che si ripete nonostante l'emergenza pandemica ancora in corso sarà un'edizione blindata e senza pubblico come lo scorso anno con ingresso riservato agli addetti lavori muniti anche loro di green pass un omaggio una celebrazione della tradizione non una vera e propria competizione si partirà alle 17.30 come di consueto su colliardinghi della pietra spaccata per un percorso di circa 480 metri tra fatica devozione identità i partecipanti si lanceranno a piedi scalzi fino alla chiesa della madonna di loreto con la raccomandazione di percorrere la discesa con relativa calma onde evitare problemi sanitari vista la particolare circostanza il prima ad arrivare riceverà il palio di stoffa è aperto a pubblico invece il concerto che si derà allo stadio comunale alle ore 21 di domenica 5 settembre mille posti disponibili in piena sicurezza con tutte le misure anticontaggio come già sperimentato lo scorso anno il famoso modello pacentro che è stato sperimentato con successo tant'è che la corsa degli zingari è l'unico grande evento estivo che si è svolto sul territorio senza grandi stravolgimenti ad esibirsi accanto alla madrina dell'evento matilde brandi saranno i decolors che nei giorni scorsi hanno rinviato un concerto per la positività di un membro dello staff nessuna disdetta è arrivata per cui tutto è confermato noi comunque abbiamo già pronto il piano b assicura il presidente dell'associazione corsa degli zingari giuseppe de kellis che quest'anno ha fatto i salti mortali per pianificare tutti i dettagli organizzativi tenendo conto delle disposizioni stringenti in atto guardate senza peccare di presunzione credo che quest'anno sia la corsa più difficile che sia stata mai organizzata perché purtroppo viviamo sotto ancora questo effetto di questa bestia chiamata covid e le normative credetemi sono cambiate mese per mese quindi facendo un piano di lavoro di organizzazione che a noi parte undici mesi prima l'evento credetemi è stato rivoluzionato tre quattro volte e ancora sappiamo se è definitivo colgo l'occasione di ringraziare pubblicamente l'ingegnere giampietro andrea e il suo staff perché lui è a casa con il covid ma è un nostro generale è un mio compare e questa corsa io personalmente la dedicherò a lui la vera corsa da vincere è quella della candidatura unesco il percorso è cominciato con la ricostruzione della bibliografia a disposizione delle origini della manifestazione che si collocherebbe in epoca longobarda diciamo che l'associazione in questa è stata veramente comeabile nel senso che hanno iniziato già dei primi contatti con degli attori istituzionali per iniziare questo che sarà un percorso decisamente arduo ma che è assolutamente ben visto e assolutamente condiviso da parte del comune è assolutamente necessario risalire alle origini di questa corsa attraverso un approfondimento che la elevi a dignità di evento insomma quindi e arrivare fino a riconoscimento è chiaro è una strada lunga che va percorsa e quest'anno abbiamo ufficialmente gettato le basi poi sicuramente inizieranno dei percorsi che avremo modo di dettagliare nel diciamo nel merito la corsa degli zingari sarà trasmessa in diretta sui canali 882 di sky 892 898 925 948 del digitale terrestre sul canale 18 di onda tv i streaming su www.ondatv.tv e intanto a pettorano sul cizio si va di porta in porta un antico itinerario alla scoperta delle tradizioni culturali del borgo e non solo ce ne parla nel servizio che danno trigili allora mi dice di cosa a pettorano sul gizio in questa calda estate si sono tenuti due appuntamenti di grande interesse paesaggistico e culturale costituiti da un itinerario alla scoperta delle cinque porte di accesso al borgo obiettivo di visitare vecchie tradizioni anche risorse gastronomiche del borgo allora perché se uno veniva a pulsare qua veniva dentro da quella peritoria dove chi lo guardava da quella peritoria non si limitava a guardarlo ma stava là con il filtro e qui se all'ospite non era grave e comunque si stava a nascita e la stessa cosa sull'altra porta la storia le curiosità narrate dagli abitanti in particolare dagli anziani gli agentori di conoscenze delle tradizioni custodi gelosi di grandi tesori che identificano la storia e le radici di una comunità svilupparsi poi negli anni una cosa più bella in questo sito è la presentazione del pezzo di Vetterano che viene rappresentato diciamo come se fosse visto dalla parte del fiume perché noi vediamo il castello all'estrema destra che si caratterizza un po' d'alberello che è rimasto in cima al castello diciamo di secoli fino all'ultimo restauro fino all'ultimo restauro del 57 e poi la chiesa madre che era poi la parte diciamo più antica del paese perché il fiume nasce il fiume si è voluto calare nella magica atmosfera fatta di storia ma anche di sapori perché anche le tradizioni culinarie fanno parte della cultura del borgho diciamo si tratta di uno dei borghi più belli d'Italia un menù degustazione è stato offerto ai visitatori che hanno potuto rivivere l'unicità di questi luoghi la manifestazione è stata promossa ed organizzata nell'ambito del calendario 20 estivi dall'associazione culturale gli amici del borgo che tra le molte attività ha a cuore la promozione turistica del borgo stesso l'avento si è potuto realizzare con il patrocinio del comune di Petorano e della fondazione Carispar sempre molto disponibile a sostenere i piccoli borghi del territorio penino i partecipanti sono stati divisi in gruppi in osservanza della normativa anti-covid sono stati accompagnati da Cicerone forse occasionali ma certamente di eccezione Oreste Federico, Eugenio Vitto Massei, Nunzio Schiappa e Massimo Cicone che con grande maestria e conoscenza i più antichi aneddoti e curiosità hanno catturato l'interesse dei partecipanti Allora il tratto di strada che da Sulmona va a Petorano e dice buona dopo la taverna di Petorano vi è un torrente che sarebbe il riaccio quello che passa a fianco al campo sportivo Un torrente che quanto è gonfio suol rendersi difficile da passarsi Nei tempi trascorsi vi era pericolo di ladri vicino a Ponte d'Arci Poi arriva qua e cita la locanda e dice buona ma un poco incomoda per l'erta salita Nella quale bisogna talvolta raddoppiare gli animali da tiro Cioè bisognava aumentare i cavalli davanti alle carrozze Che hanno apprezzato molto sia i luoghi che le pietanze del menù degustazioni Preparato da ristoranti del luogo Tra l'altro il ristorante la locanda con i famosi mugnoli, i cazzarielli e le pizzele Il ristorante il torchio custode dei segreti della preparazione della famosa plenda lugnosa E le crostole, il bar, il cortile e gli alimentari di Massimo Cicone No, è venuto, credo che sia una bella occasione di questo Ambo da Ponte d'Arcolanti Ma non ci sono scelte Vorreste già raccontare un'unica storia? Anche io i tuoi miei luoghi L'importante è che siano belle Le storie devono essere belle Poi qualche volta sono filologicamente corrette Qualche volta sono inventate Però la fantasia è utile per farla Ovviamente anche questa sera abbiamo la nostra Buona notizia I ritmi della terra e della natura Nella transumanza che unisce con grandi artisti, cantanti e attori Per raccontare le origini verso percorsi e viaggi nei tratturi Anche verso il futuro sostenibile E' stato questo il filo conduttore dello spettacolo Andato in scena ieri sera nell'anfiteatro del parco fluviale Augusto Taolio Sul palco, anzi sul tratturo della transumanza Tanti bing della musica e del teatro Anna Tatangelo, Ron, il tenore Piero Mazzocchetti Maurizio Trippitelli, le percussioni ensemble Su dell'anima, la scrittrice Daniela Musini Il direttore del teatro stabile dell'Abruzzo, Giorgio Pasotti Per le campagne non c'è più nessuno Addio, addio, amore Io vado via La paratena La paratena La paratena Uno spettacolo molto apprezzato da pubblico presente che è entrato solo con il Green Pass Qualcuno ha ricevuto il biglietto ma non aveva il certificato verde Lo spettacolo e il racconto della terra hanno fatto da filo conduttore all'evento Ma prima, nel pomeriggio, il convegno proprio per unire sul Mona e l'Aquila Creare una grande vetrina di promozione sul territorio Perché dalla terra si deve ripartire per promuovere e fare turismo Minuscoli puntini che si arrampicano sul fianco delle montagne con un bastone in mano Prima di chiudere vi ricordo, anzi vi invito a visitare il nostro sito internet www.ondadv.tv Per restare aggiornati su tutte le notizie, davvero tutto per questa edizione Grazie per aver scelto Onda Digi che come di consueto torna domani A tutti una buona serata Grazie per aver guardato il nostro sito